Ciao ragazzi bentornati in un nuovo video, oggi spacchettamento di un altro calendario interamente testato al nickel quindi nickel free se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi, attivate la campanella e lasciate un bel like di supporto ma passiamo al calendario, dopo quello di VereLab, vi lascio qui il video se ancora non l'avete visto ne ho scovato un altro o meglio ce n'è uno proprio interamente testato al nickel quindi è un'emozione tra l'altro con tutti i prodotti biologici, quando è arrivato pensavo di fare subito la foto copertina con il mio calendario ma sono rimasta colpita perché adesso vi faccio vedere come si presenta questo calendario praticamente mi è arrivato uno scatolone gigantesco pieno di caselline fatte così quindi che voi potete appendere al vostro alberello una più bella dell'altra, sono 24 quindi dal primo di dicembre alla vigilia e non vedo l'ora di iniziare ad aprirle anzi iniziamo la casellina numero 1, mi spiace quasi aprirlo perché sarebbe stato stupendo poterlo appendere ma noi ci proviamo lo stesso e poi vediamo se riesco a rimpacchettare tutto maschera viso luminosa all'acido dialuronico monodose effetto lifting della marca Elan Elan è una marca straordinaria che testa appunto tutto al nickel c'è anche la linea per bambini piccoli io ho un sacco di cose per la vigilia che mi hanno regalato e che ho comprato e quindi sono molto 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 fiera di questa prima casellina passiamo alla casellina numero 2 ma quanto sono belle queste caselline io le sto amando veramente carine la maschera di Giada non so se conoscete questo brand Giada Cosmetics questo qui è un impacco praticamente per capelli in tessuto ovviamente testato al nickel sempre all'acido dialuronico rivedo trattamenti di bellezza a go go ma passiamo alla casellina numero 3 questa sembra più leggerina vediamo cosa ci riserva wow ui balmi peach alla pesca di puro bio puro bio penso che lo conosciate tutti è l'apoteosi del nickel tested ed è fantastico casellina numero 4 vediamo un pochino cosa c'è dentro vuole allora i due detergenti solidi per una pelle liscia morbida per una pelle normale delicata di officina natore molto buoni casellina numero 5 wow andiamo via spediti perché sono ben 24 e non vi voglio tediare Domus Olia Toscana adoro ecco bio crema anti age viso corpo azione multi perfect casellina numero 6 vediamo 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 deodoranti in crema questo non l'ho mai provato senza profumo lunga durata e beh lo proveremo sono sempre un po' scettica perché ho provato tutti i deodoranti in testate al nickel e non ce n'è uno che mi dia la stessa soddisfazione del DAV roll on per intenderci quindi boh staremo a vedere casellina numero 7 carino la pochettina di officina natore utile utile soprattutto per chi come me ho un lavoro che la porta a viaggiare molto casellina numero 8 Kafka mani e unghie burro detergente per mani andiamo a sentire com'è perché sono troppo curiosa non è una crema è proprio un burro ragazzi è strepitoso non so se lo percepite ma è favoloso questa ve la straconsiglio già subito ha un profumo eccezionale ah è della Elan ragazzi sono un idiota questo è un burro della Elan andiamo avanti casella numero 9 tadaaa alchemilla che io amo maschera viso anti age di alchemilla con il dischetto in cellulosa naturale bello questi regali biologici mi stanno piacendo assai casellina numero 10 altri cosmetici solidi stavolta shampoo e balsamo sempre di officina natura quindi adoro per capelli normali e delicati ci piace casellina 11 ragazzi ho un bottino che è pazzesco questa volta eh sto amando puro bio ah la maschera capelli ha le 5 vitamine ragazzi è eccezionale questa l'ho già provata ed è eccezionale lucida e idrata i capelli come nessuna veramente stupenda passiamo alla 12 siamo a metà calendario e vediamo 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 oh io adoro questo tipo di regali i dischetti in luffa per chi non conoscesse la luffa è una spugna naturale che io uso prevalentemente sotto la doccia per fare degli scrub questi sono però per il viso e mi mancavano casellina 13 questa è pesantina una peeling maschera quindi mi hanno dato prima la crema anti age di Domus Olea e poi adesso il peeling vedete che è testata il nickel spero si lega casellina numero 14 intanto si fa sentire la vigna eccola che ci fa compagnia a distanza uuuu i burro cacao di Alchemilla ragazzi sono strepitosi banana e melone cioè ragazzi non vorrei dire ma mmm sono strepitosi mamma mia sembra proprio una fetta di melone poi questa è pesantissima casellina numero 15 uuuu ragazzi ti ama cosmesi ti ama per l'ambiente crema corpo mandarino 64% biologico mmm è testata anche al cobalto ragazzi sa di mandarino davvero è strepitosa vi farò sapere com'è a livello di crema corpo occhi sono molto esigente cercare la coppa casellina numero 16 tadadada uuuu un pacchettation oh di Elan maschera unghie e cuticole ragazzi per me Elan è una garanzia assoluta io già ve l'ho detto ve l'ho detto 17 ho il peciocchi di Giada Cosmetics io questi li ho già provati li adoro Officina Nature carezza crema corpo body and cream all'olio di cotone passiamo alla 19 siamo in direttura d'arrivo vediamo un pochettino cosa ci riserva questa casellina e voilà ancora Elan mani e unghie crema profumata sempre della linea casco adoro poi passiamo alla 20 ancora di Elan maschera scrub levigante per le labbra la casella numero 21 ha una saponetta vegetale di Elan al gusto panettone cioè ragazzi ma stiamo scherzando io scioccata crema mani al gusto panettone ragazzi la casella 23 è stupefacente perché è piatti solidi di Natale alpino praticamente è uno shampoo solido per c'è un non uno shampoo scusate una detergente per piatti si strofina su una spugna e si lavano i piatti io sto amando e sa proprio di pino in più c'è anche il sacchettino con i purpuri quindi veramente figo e passiamo all'ultimo guardate quanto comunque sono incartati bene che carina questa mollettina andiamo all'ultimo wow allora mi hanno messo dentro un tè dello Yogi Tea quindi adoro Christmas Tea senza caffeina un buono da 5 euro per Bio 1 Shop e un sacco di campioncini che fanno sempre piacere in più mi hanno messo il bagno schiuma solido vellutante che ha un profumo a dire poco incredibile sempre di officina natura la cosa bella è che mi hanno dato anche la scatolina in cui poi conservare tutti i vari champini solidi che mi hanno messo ragazzi questo è tutto calendario di Bio 1 Shop io l'ho comprato sul loro sito tra l'altro c'è la possibilità anche di pagare con bonifico quindi anche chi non avesse una carta di credito a disposizione può pagare con quello oppure con contrassegno quando lo riceve è tutto testato a nickel costa circa 140-150 euro non è un prezzo bassissimo però per chi è allergico a nickel è un regalo eccezionale perché avete veramente una vastissima gamma di prodotti in taglie anche piuttosto grandine per la maggior parte quindi la possibilità anche di provare più brand tutti i nickel tested e un sacco di campioncini che mi mettono sia nel pacchettino che poi nelle caselle quindi io vi ringrazio noi ci vediamo al prossimo calendario e buon avvento a tutti e buon avvento a tutti e buon avvento a tutti grazie a tutti